Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, nuova serie, nuovo, nuovo tutto Oggi siamo qui su The Elden Scrolls 5 Skyrim Ma con un episodio un po' particolare perché non farò niente della storia, niente riguardo alle cose normali di Skyrim Ma andremo a fare una specie di DLC Una specie di DLC Il Moon Path to Elsewhere, qualcosa del genere si chiama E' una mod creata da non mi ricordo chi Ed è paragonabile a un DLC di Skyrim Allora appena inserirete la mod, intanto l'ho messo anche la traduzione in italiana Vi darà direttamente la missione, qua alla luce della luna Trova la corovana che viaggia nel guna cammino per Elsewhere E dovremmo andare qui dentro a Folkrete Andiamo Allora, ecco qui La prossima canzone parla del salvo di Skyrim Ok Oh, dove vai? Che palle, sei in inglese Pazienza Mi interessa raggiungere Esweer Oddio che occhio che ha fatto Non ci capisco nulla Almeno tradotto in italiano di sotto No Quindi posso unirmi a voi? Sarebbe meglio se fosse in italiano Ok Carica il tuo equipaggiamento sui trasporti e lascia Skyrim Il trasporto è qua dietro Apri, inizia il viaggio verso Elsewhere Non so non dov'era Ok, no C'ho tutto Uh Che succede? Perché ci siamo fermati? Il trasporto è bloccato Perchè qualcuno dovrebbe prendere un luogo Ok Oddio che rumore che fa quello affare Non sono più interessato in heretics than bandits Oh, ci pensi a me Chi c'è? Faccio io Ok Ok Ma quante iene che ci sono? Tu come ti chiami? So, so che se gli faccio un colpo crepa Quindi meglio non colpire Andiamo Oh, come l'ho parata Il mago No, questo era una manca Oh Oh Tu Scorca con la freccia, bravo Tu Eh Ho detto il crepa Tu Ho rotto le panna Fam Viva la testa Uh, rimbalza la testa Non sapevo Cerchiamo dentro la testa Uh, c'hanno tanta roba C'è un crack Questa sembra Con la testa mozzata Oro Cremandello Pozione di cura suprema Mura di jade Mamma mia Importanza dei dove Eh, armi e una mano, vai Che faccola Quello che mi serve Ha fatto Curana Perché Parla in inglesico Di solito I testi Ok, sai sui trasporti Continuati per giù Oh Ok Bene Io ancora non ho capito Che cosa sei te No, non ho proprio capito Curana Sembra che il ponte Si è collassato Andrò in cerca Di un punto di serrazione Ok Allora Trovo un sentiero Attorno Il ponte distrutto Allora Il ponte è questo Un sentiero Andiamo di qua Tatata Tatata Andiamo Uh, ragni Eh, non riesco a salire Basta Vieni qua Vieni qua Vieni No No, adesso tu non scappi Su no Non scappi Oddio Quanti siete? Uno E due Uno Uno e pd ha cercato di farmi un salto ok ritorno da curano antico c'è un passaggio ok vieni vieni le ambientazioni sono fatte bene ho trovato un un guadagno si giù lungo il fiume una forte corrente ma dovrebbe andare bene oh yes spagna gli occhi l'orecchio la bocca e i denti si poi con la risata ora cosa facciamo questo è raro ma questi due mangiano sempre pane infinito tra l'altro dimmi che devo fare sei sul trasporto e scendi alla foresta tenma signore e signori siamo arrivati a destinazione a foresta tenma davanti ai vostri occhi vedete una tigra dai denti a sciapola guardia palmar tu non sei un kajiti tu sei un gatto che è dondola e qua c'è un baule vuoto ah lag cosa devo fare eliminare tutti andiamo tu yura iniziate il sapore dolci di exware come dondola dondolano tutti quei gatti ora devo dire andare e qui non è ecco sono troppi forse è il mio letto ce la posso fare no non ce la posso fare no no ce la faccio ce la faccio ma non ci voglio credere questa si che sfiga ce l'ho fatta una mazza debano non mi serve mazza di vetro non mi serve spada di vetro non mi serve frecce debano non mi servono frecce fiche tanta roba che a me non serve però io sono over power ormai ce l'ho tutto ce l'ho tutto c'è di tutto però qui mi un giorno vengo e vendo tutto ho due cuore di daetra che figata ora ciao cavallo tu sei pericoloso no ok vie d'acqua di aceweer un altro missile come t'ho schivato bam uno e crepa oh come l'ho parato besparatoreu vediamo se hanno qualcosa di diverso no che figo che sto posso dove devo andare aspetta quanti ragni però che palle gli odio gli odio in una maniera assurda sentivo parlare oggi io sono convinto di sentir parlare qualcuno questi che sono zailisco nidificante oh ma sono tutti così forti che fanno cioè tutti così faccio sempre gli stessi danni faccio guarda questi no e muori e muori tu che sei spero che tu sappia quello che ti ha con quelle non mi rompe le balle specialista il cavolo ti voglio solo parlare chi c'è manco aspetta è vuoto no non è vuoto porca no trovato ora mi quanto oro si trova che figo tu sei morto però figo il rumor che fammi quando andiamo andiamo non mi piace solo che quando c'è l'acqua c'è questa specie di riflesso sulle sulle armi mi dà un fastidio brutto per il resto è fatto bene suoca allora no non è morto ora si bene 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 finora tutto semplice oh poi nel caso uso questo ok credo di essere arrivato a destinazione allora sarei sorpreso di trovare qualcuno qui per ascoltare le storie cosa ci fai qui cosa sono i guca luna cammini luna cammini stavo per dire sei tu il capo qui grazie cosa sono i lunacammini quindi sono magici ok sarei sorpreso grazie ma sei tu il capo qui e questi gatti giganti mi parla come se fossi il loro capo ma cosa ma cosa sta facendo ma tu sei malata ma tu sei malata ma vai ma vai tu sei malata non stai bene fattevo dire da te come cacchio ci arrivo però ok dice che è un onore per riparo che so non mi sembra di camminare quattro zambe devo andare ci vediamo ricordi di sempre seguire la luna sempre led a tua destinazione ma io voglio una missione vediamo se c'ho una missione no la prossima no perchè tu sei in inglese tu tu ah incursione ok vai da cammelle ah cammelle qua eh stai per sali non riesco a segreti ehm insiste che tu grazie garantisca per me ma perchè fanno questi movimenti strani ehm beh invece mi dobbiamo svegliare veramente inoltre questo cuglio è ma non dormire ok hai fatto apposto di ehm qua mel dice che lui ti toccherà ah no ti torcerà le orecchie ma dai no stai con quei movimenti certo perchè no ehm andiamo da tuo fratello va magari lui è decente ma so ma perchè io sono così basso e voi siete così ah ok in effetti sticcaci ti sono giganti eeeh combattiamo vi aiuto io togli il dati time crepa tutte tu sei una meta oh boom e crepa e crepa e crepa tu non fai male a me faccio io tu che cacchio sei muori che brutto oddio che schifo che brutti che sono vediamo se questo timer ci avrà qualcosa no non ci hanno mai in cacchi oh ma dove scappa quello là no è morta dove scappa tu vieni qua devi parlare con me va tutto bene ah eeeh ok io voglio completamente in italiano sarebbe più figo allora andiamo pirletta madonna santo quanto sei grosso aspetta eh posso ok non riesco ad arrivare la troltezza tu non sei visto di un buon occhio dai Talmor vero quindi che si fa nave volante io ce l'ho una nave volante eh ora provvedi la parte del Talmor trova gli ordini del capitano ok andiamo a massacrare Talmor buongiorno buongiorno e tu e crepa e crepa e crepa e crepa e crepa uopa uopa gang gang stai facciamo casino oh poca questo fa danno guardate che figo che sono oddio ah aspettate ora mi alzo e ammazziamo questi 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 e muore e muore e muore ok uuu nonostante le armature gli incantesimi mi fanno comunque malissimo scullo elettrico spodalios infatti devo potenziarmi qualcosa per i danni contro la magia ok ordine delle battaglie del capitano corazza demon di distruzione estrema 210 stica metto i 400 quindi non compro che cattiveria ora gemma dell'anima ok allora qua c'è il tipo il gigante ci penserei io così come oh finalmente ti sei abbassato che possiamo fare quindi hanno detto niente dei contro spionaggio smettili di parlare a bamber parla con culana e nascondiglio culan ti faccio il culan vieni culan continuo a fare avanti andrea ma questi due che cacche stanno facendo sta partorrendo sto qui oddio siamo arrivati siamo arrivati voglio vedere la mappa che schifo ciao mi fai cavancare no capito e poi c'è un'altra stranale volante non è che mo' devo bombardare questa non so adesso vediamo adesso vediamo stavo peccadeire dai dove mi porta cabina del capitano sei culan davvero me lo stai per dare stai esagerando che si dice dai giudice pronto come lo sei tu nessuno nessuno culan guida la nave attraverso c'è il è un viaggio tranquillo senza eventi degni di nota ok ok gatti da guerra catti da guerra andiamo a mazzare i timer va massacriamoli dove sei il timer e basta fare eeeh idiota e vai a combattere vi aiuto io amici io trovo attraverso 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 tu muori assolutamente morire non so ok non capivo nulla ti uccido io te lo giuro ti uccido sembra che sarà per razziare ok che posto è questo se c'è il riferimento quello che si può che sembra no ok eeeh troviamo gli indizi ecco altri ieni oh mi è finita la spada e me non lo dita vieni qui oh da scappare ok non si scappa da me da infiniti in game 1 what to capo no l'ho manchetto oh cacchio quanto son grossi cacchio cacchio quanto son grossi ho ammattato con sbagliato cioè alla fine nessuno dei due ho sbagliato però bene 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 ammazziamo questi timer oh oh uccidiamo questo bastardo 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 tanto lui ci mette una vita ad alzarsi oh ti sei liberato questa è stata bella una aliena su gacca nella nave che ho fatto entrare guarda che c'è questa aliena idiota fa sempre eeeh e poi non fa un cazzo amico inglesico vieni ho trovato il diavolo di porta amen che sta dicendo non capisco pugnale da etrico oddio sti ops bene bene ragazzi siamo arrivati di nuovo qui eeeh spero che il video vi sia piaciuto avrò tagliato chissà quante parti ma è una cosa che non capita tutti i giorni eeeh vabbè scusate se in inglese è gioco ma c'è il gioco il la mod in inglese ma non ci posso far niente non l'hanno tradotta in italiano se non le scritte quindi ragazzi se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace iscrivetevi al canale e ragazzi ci vediamo un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti